Sara, non è lo? Tiamo il mio canale di Tua da Sara da Fertu e Swagatia. Oggi è il video che si dica anche i segnali di divieto da part 4. Sì, per lì si dica anche divieto, transito, mezzi pesanti. E se è vero, si dica anche le quizze un'idea che ho sdenato inizio invece di più di via. Sì, per lì, il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Vero. Quindi, c'è un sign shock che è stata, e vieta, c'è il transito, c'è un veicolo adibiti al trasporto di cose che è consentito il transito di autobus di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Vero. E' vero. Sì, per lì, il segnale raffigurato è consentito il transito di un autocaravan di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. con un diverso valore della massa a messa al transito. Vero. e' 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 vero. il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di persone. e' vero. 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 una volta negativiato e servire la somma legge giare il vehicolo una volta negativiato e già da par 6,5 tonnellate, quindi la somma legge giare o non è possibile Osto va, il segnale raffigurato vieta il tranzito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate Vero, e già da qui c'è il definition e sa indi, è che già da science show che vieta il tranzito è che non è possibile avere avvagiati agli autocarri, è che autocarri non è possibile la massa a pieno carico è che il total è pari o superiore a 6,5 tonnellate, quindi è vero Osto va, in presenza del segnale raffigurato è consentito il tranzito ai vehicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva pari o inferiore a quella indicata nel segnale Osto va, in presenza del segnale raffigurato, il segnale raffigurato, il segnale raffigurato è vietato il tranzito agli autocarri se sulla carta di circolazione è indicata una massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate Vero, e te dica è che due sai non da, udo mannahi ya o ho autocarri nu In presenza del segnale raffigurato è consentito il tranzito agli autocarri di massa mazza complessiva pari o 7,5 tonnellate, falso, e te dica che il segnale raffigurato è consentito è consentito, e che il tranzito agli autocarri, il tranzito agli autocarri, il tranzito agli autocarri mazza complessiva pari o 7,5 tonnellate, e che il segnale raffigurato, il segnale raffigurato questo è il tranzito agli autocarri di massa superiore a 6,5 tonnellate destinati al trasporto di persone, falso, e te dica che il tranzito agli autocarri di massa superiore il segnale raffigurato è il tranzito agli autocarri di massa superiore, il segnale raffigurato è il tranzito agli autocarri di massa i due sai non da, a 6 tonnellate, e che il segnale raffigurato è il tranzito agli autocarri di massa Poi c'è la sua carri e la sua carri e l'euro non può avere 16 tonnellate, senza che non si raffigurate. In presenza del segnale è consentito il tranzito agli autovehicoli ad uso speciale di massa superiore a 6.5 tonnellate. è vero, è vero, è vero, è vero. è vero, è vero. 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 Ecco, è vero. è vero. è vero. Il segnale raffigurato è obbligatorio in corrispondenza degli accessi privati. Il segnale raffigurato è obbligatorio e che la raffigurata è obbligatorio e che la raffigurata è obbligatorio. Il segnale raffigurato è obbligatorio e che la raffigurata è obbligatorio e che la raffigurata è obbligatorio. Il segnale raffigurato è obbligatorio e che la raffigurata è obbligatorio e che la raffigurata è obbligatorio. Il segnale raffigurato è obbligatorio e che la raffigurata è obbligatorio. Il segnale raffigurato è obbligatorio e che la raffigurata è obbligatorio. Il segnale raffigurato è obbligatorio.